Michele Scibelli, intanto inizia questa nuova era per la piscina comunale, lei ha avuto un breve incontro anche informale con il nuovo CDA, com'è la situazione in questo momento? Siamo molto fiduciosi, ho avuto questo breve incontro con il nuovo CDA per spiegare tutte le dinamiche sottese al Mercogliano Servizi e tutte le questioni che durante il commissariamento sono state affrontate e quindi ho reseduto i nuovi componenti del CDA, Antonia Giacobbe e Gianluigi Corrato. La questione degli ultimi giorni è la questione parcheggi, c'è stato un sopralluogo della ditta incaricata per mettere in funzione i parcheggi, i parcometri soprattutto, come è andata la situazione? La ditta Parkit che quattro anni fa installò i parcometri nella città di Mercogliano è stata incaricata per un sopralluogo per verificare lo stato di salute dei parcometri al fine di garantirne la messa in funzione. Nella giornata di domani attenderemo la relazione tecnica da parte della Parkit al fine poi di sostituire i pezzi necessari che consentiranno appunto la messa in funzione dei parcometri sostanzialmente e per poi consentirci di programmare la tempistica giusta per l'emanazione dei nuovi bandi e per l'inizio concreto di questa nuova sfida. Diciamo che sui social c'è stata anche delle reazioni non tanto positive a questa nuova introduzione. Ma allora io ci tengo a spiegare, i parcometri in città sono un'opportunità per i mercoglianesi perché dire che si mette nuovamente tasca al cittadino dell'introduzione dei parcometri è riduttivo perché potrei altrettanto ribattere sempre riduttivamente che quando si va fuori mercogliano chi oggi contesta questa metodica paga puntualmente il parcheggio. Il parcometro è una risorsa perché cosa garantirà? La città garantirà che la città di Mercogliano avrà grossi investimenti e grossi benefici perché con gli utili dei parcometri noi potremo utilizzarli per dare dei servizi che attualmente non ci sono. Il cittadino potrà avere anche un ulteriore beneficio che è quello della riduzione della tassazione locale. Immagino che si possano abbattere le addizionali IRPEF perché è evidente che nelle analisi che abbiamo fatto nelle casse comunali entreranno liquidità viva che consentirà all'amministrazione comunale di investire sulla sicurezza stradale, di investire sul verde pubblico, di investire sulla piscina comunale, di investire soprattutto sul sociale. Ad oggi tutti i comuni hanno difficoltà per quanto riguarda la copertura finanziaria dei servizi. Noi con i parcometri risolviamo questo problema. Diciamo che è anche un altro problema qui a Torrette, soprattutto c'è chi parcheggia e lascia la macchina per l'intera giornata. Questo è uno degli aspetti non secondari della vicenda. Torrette di Mercogliano è consegnata alla sosta selvaggia. Abbiamo persone che posteggiano la loro autovettura la mattina e si ritirano la sera. Persone chiaramente non residenti sul territorio di Mercogliano. Torrette di Mercogliano la situazione è evidente e i residenti la conoscono bene. Abbiamo la zona della Villa Comunale di Torrette, dove stiamo facendo questa intervista, come la zona alle spalle del centro orbita, dove disciplinare il parcheggio è necessario. Ma per dare un ordine e una rigenerazione degli stalli auto, al fine di consentire a tutti di poter collocarsi nel territorio. In ultimo c'è questa questione del coronavirus che ormai sta tenendo banco anche in Campania. Lei però ha anticipato, se vogliamo, un po' il decreto del presidente De Luca. Abbiamo anticipato e ci siamo consegnati al buon senso. Da premettere che in piscina la sanificazione degli ambienti come la disinfezione della struttura è regola. Ricordo che già dal mio primo giorno di commissariamento ho provveduto a sanificare gli ambienti, ho investito tanto nei prodotti per la pulizia e soprattutto per la qualità delle acque. Premetto che dovrebbe essere una regola. Ora il buon senso e la logica ci ha spinto a porre in essere ulteriori passaggi e nella giornata di ieri ho disposto una ulteriore sanificazione degli ambienti per l'abbattimento di eventuali virus e batteri. Quindi domani la piscina sarà chiusa per consentire agli operatori specializzati di intervenire e riaprirà regolarmente sabato 29 febbraio.